buonasera a tutti un saluto da zurigo sono qui per lavoro ed è la mia prima volta in questo momento mi state vedendo un po così diremo provata perché oggi è stata una giornata di trasferimento siamo partite io e la mia collega in mattinata in macchina da montecchio maggiore per raggiungere appunto zurigo e ci sono volute sette orette compresa una pausa pranzo e quindi sono un po stanca in più nel mentre ho guidato fatto altre cose altri lavoretti e poi arrivate ho dovuto lavorare a qualche mio progetto che è stato trascurato per un po di giorni e poi siamo andate a cena ho preso un bicchiere di vino un calice da 100 ml di primitivo e potete vedere il mio stato sono cappò e non ho bevuto tanto è stato solo proprio quel calicino di vino per accompagnare la cena tra l'altro la cena buonissima ho finalmente trovato un paddai paddai gluten free se conoscete paddai a milano nei dintorni gluten free e vegetariani ditemelo per favore perché era una vita che lo volevo e l'ho finalmente mangiato era buonissimo e per fortuna siamo arrivate lì perché inizialmente dovevamo andare in un posto portoghese ma era chiuso in realtà e su google maps c'era scritto che era aperto ma vabbè abbiamo trovato il talandese ed era perfetto è proprio quello che ci voleva e ora sono nella stanza un po tardino e sono un po stanca perché arrivo comunque da giornate intensi di lavoro ma come d'abitudine vorrei farvi vedere la stanza perché poi non si sa non la rivedrete più così ordinata perché per quanto io sia ordinata non sarà più così ordinata come quando te la preparano per quando arrivi sono da moi appartments schlingen se non ricordo male ed è un posto bellissimo sono tipo delle residence degli appartamenti e in questo caso sono assolutamente grata alla mia collega per aver scelto questo posto perché rispetto ma neanche rispetto proprio bellissimo ve lo devo far vedere cominciamo cominciamo il nostro tour allora dall'ingresso abbiamo subito un armadio postazione per la valigia e per le giacche ho già popolato un pochino con le mie cose qui c'è un armadio bello spazioso fate conto che questo lo apre per la prima volta insieme a voi ed è perfetto perché poi ha anche ripiani adesso veramente intendo rendere questo appartamento un posto in cui stare per sempre anche se poi sarò solo una settimana ma voglio proprio accomodarmi e vivermi una settimana in cui stare nell'agio e in uno spazio ampio ordinato pulito qui c'è il bagno ovviamente essendo un appartamento credo che non faranno cambio di lenzuola devo ancora leggere le regole se arrivano per le pulizie ma se non dovessero arrivare va bene lo stesso anche perché comunque a casa non è che fai le pulizie tutti i giorni quindi ci può anche stare e qui vabbè doppio specchio super apprezzato ripiani finalmente dei ripiani su tiro fuori tutto tirerò fuori tutte le mie cosine la doccia check della doccia bellina ampia molto spaziosa wow rispetto a quello che avevo di là nell'altro hotel di montecchio maggiore questa veramente il paradiso poi quindi torniamo nell'ingresso e poi da quest'altro lato qua abbiamo una zona salottino tavolo da colazione lavoro quello che ti pare con una pianta finta ma fa la sua scena poi angolo relax con questa bellissima poltrona la tv è una lampada questo letto stupendo veramente bellissimo lo voglio fare così cioè lo voglio fare con la base bassa e il materasso altissima questa lampada sopra il letto e comodini sospesi quindi situazione bellissima qui un mini balconcino che si affaccia sulla strada però è perfettamente insonorizzato quindi non si sente tanto rumore cioè balconcino per modo di dire però è comunque uno sfogo importante ed è stupendo è veramente stupendo perché comunque c'è un sacco di verde c'è tantissimo verde in questo posto in questo paese poi infine di là abbiamo la cucina l'angolo cucina con tutto il necessario ci sono anche le capsule per il caffè qua sopra ci sono nelle ciotoline qua ci sono già delle mie cosine questi sono i taralli che ho acquistato oggi a pranzo all'autogrill fiore di puglia taralli senza glutine wow sono squisiti non me lo aspettavo sono veramente buonissimi qua sopra piatti tazze bicchieri qui c'è l'elenco di quanto c'è in dotazione bellissimo c'è anche un microonde qua sopra delle bolle non userò mai tutte queste cose però comode da avere c'è un po di sale pepe utile la lavassoviglie le pastiglie per la lavassoviglia il frigo e poi vabbè altre stoviglie altre cose per cucinare tutte le posate wow diciamo che c'è anche più di quello che a me servirà sono super contenta di questo posto e ah sì c'è anche il piano induzione starò veramente bene mamma mia ne avevo bisogno perché dopo gli ultimi giorni passati in quella stanza orrenda avevo proprio bisogno di uno spazio bello pulito ordinato in cui potermi rilassare finita la giornata di lavoro ve lo faccio vedere anche domani mattina velocemente con la luce del giorno però intanto volevo far vedere così com'è ordinato perché poi quando uno ci vive dentro per quanto io sia ordinata non è più allo stesso modo basta io adesso mi sistemo bene cioè metto fuori tutte le mie cose preparo la tisana e poi vado a dormire voglio dormire tantissimo mamma mia sono stanchissima buonanotte buongiorno inizia un nuovo giorno stamattina uscito fuori il sole perché ieri siamo arrivati col diluvio universale possiamo vedere anche la vista c'è veramente tanto verde tanto tanto verde in questa svizzera è bellissimo e adesso una peculiarità di questo posto dove alloggerò dove sto alloggiando è che dentro un complesso residenziale molto particolare sotto al piano interrato c'è il parcheggio e poi sopra i vari piani c'è un lidl c'è questo residence e poi c'è anche la zona lavanderia quindi vorrei portarvi con me a fare un giro vorrei farvelo vedere per bene sono mezzo addormentata però vabbè le priorità prima di tutto la colazione capite che questa è una svolta epocale cioè avere il supermercato nello stesso palazzo l'avevo sempre sottovalutato invece oggi è proprio comodissimo perché scendo vado e mi prendo la colazione wow questo è l'outfit per il giro al supermercato sono già vestita in me sportiva perché dopo vorrei allenarmi allenarmi il giro al supermercato sono già vestita in me sport spesa fatta avete già visto più o meno quello che ho comprato ma allora vediamo insieme per un totale di 17 franchi e 40 ho comprato due confezioni di pane senza glutine pane integrale senza ok tra l'altro sono molto stupita piacevolmente di trovare il pane senza glutine integrale così bello al lidl dovrei andare a provare un lidl vicino casa per capire se anche lì c'è poi pesche e banane perché settimana scorsa ho mangiato zero ma pochissima frutta proprio poca poca perché non ce ne erano hotel e poi non avevo altre occasioni per mangiarle e poi burro d'arachidi finalmente torno a fare la mia colazione perché tutte quelle uova un pò mi stavano stancando e poi vabbè il detersivo per i piatti questo serviva e infine l'acqua probabilmente potabile però non sapendo preferisco averla poi mi serve anche da portare in giro perché figuriamoci se devo comprare sempre un acqua al bar finisco per usare tutto il mio budget basta questo è quanto ora ci si allena e poi si va avanti con il resto della giornata 20.000 ore dopo ho dedicato la mattinata a tutte le cose che un po trascurato nelle ultime settimane e ora sono finalmente pronta per uscire sono ancora indecisa sull'outfit perché fa caldo ma non caldissimo ci saranno tipo 20 gradi fuori non so se uscire così con il maglione sopra o se prendere il trench devo guardare un attimo il meteo si ci sono 20 gradi forse un po fresco per andare in giro così per cui opterò per il trench che andiamo più sicuro anche se dovesse iniziare a piovere per caso però questo diciamo che è la soluzione perfetta per coprirsi dalla pioggia e dal vento perché non lascia passare neanche un po' di aria lo devo far vedere perché è bellissimo questo outfit mi sa che l'avete già visto perlomeno questi pantaloni con questo top però col trench sento che è ancora più bello lo sto adorando basta adesso sono pronta per uscire vado fare un giro a zurigo in città e ovviamente venite con me let's go alla fine ho optato per lo zain così riesco a portarmi dietro tutto il necessaire tra cui il maglione la borsa per la macchina fotografica e altre cosine adesso prima di andare via in realtà vi voglio far vedere il posto vi voglio far vedere la reception e lo spazio comune di questi appartamenti perché merita davvero c'è anche uno spazzolo aperto per cui è proprio una situazione bella qui è una situazione che mi fa stare bene dopo la settimana scorsa ne avevo bisogno adesso dobbiamo scoprire come si prendono i mezzi qui e dove si prega il biglietto tutta una serie di cose fondamentali mi dispiace obligato a cercare di fare il biglietto tutta una serie di cose fondamentali non serve sentire tutto questo rumore ma ho un piccolo aneddoto praticamente diversi anni fa mi è successo di sognare dov'è? quella torre lì e nel mio sogno era la torre san pietro ma la torre san pietro dovrebbe essere quella invece che meraviglia wow è tutto stupendo e praticamente avevo sognato questa torre qua così a caso e avevo sognato che fosse a Zurigo ma sinceramente non avevo minimamente idea dell'esistenza di questa torre ed è una cosa molto particolare quindi mi sto fermando ad ammirarle un po' tutte e due perché sono tutte e due bellissime ma anche per questa cosa e non so se mi sto condizionando nel pensarlo ma stamattina è successo qualcosa di molto strano e sta capitando anche in questo momento praticamente ho fatto meditazione come tutte le mattine e sapete che metto la meditazione guidata su youtube e praticamente prendo quella che arriva ogni mattina, apro e ce n'è una nuova dello stesso canale Great Meditation e stamattina e stamattina era una meditazione con un messaggio dallo spirito guida e questa cosa è stata talmente forte ma anche dalle prime note della musica che c'era di sottofondo e dalle prime parole di questa meditazione che praticamente ho pianto per tutta la meditazione è stata una cosa stranissima non era mai capitata e il messaggio che mi è arrivato è che non lo so non era proprio un messaggio di parole ma ho una sensazione di essere nel posto giusto e di questa calma talmente forte di questa sensazione di stare bene talmente forte che mi emozionava al punto da piangere cioè l'emozione di sentirmi così calma come mai nella vita è così in pace era talmente forte che ho continuato a piangere e questa sensazione la sento fortissima anche qui adesso è la prima volta che metto piede in questo posto ma mi sento a casa forse devo valutare l'idea di andare a vivere in un posto dove c'è dell'acqua perché forse il mio spirito ne ha bisogno e poi è successa anche un'altra cosa molto strana perché io poi per il discorso dell'hotel bruttissimo in cui sono stata negli ultimi giorni me ne sono fatta una ragione perché comunque non è che posso stare in quella sensazione di è tutto uno schifo però vi ripeto è stata talmente un'esperienza terribile cioè il mio tappettino da ginnastica puzzava stamattina di quella stanza lì aveva preso lo stesso odore di fumo e di umido e non lo dico per lamentarmi ma per farvi rendere conto di quanto era insopportabile la cosa e comunque me la sono fatta andare bene e stamattina quando poi mi sono svegliata dopo aver dormito otto ore e sono andata a farmi la doccia in una bella doccia nel momento in cui l'acqua ha toccato la mia pelle anche lì mi sono commossa, emozionata talmente tanto non so sarà che ho imparato ad essere molto grata per anche le cose più piccole e non per questo non cerco cose grandi ma riesco a dare un valore enorme anche alle cose più piccole e apparentemente insignificanti e il mio cuore vuole esplodere quando ci sono queste cose perché è come aver sbloccato il livello premium un livello tipo power ranger delle emozioni ed è ancora tutto nuovo talmente forte che non è facile gestire tutto questo però è molto piacevole perché a me le sfide piacciono parecchio e questa è una bella sfida per me è bellissimo è proprio bellissimo mi sento davvero molto fortunata in questo momento siamo riuscite a infilare un pomeriggio vuoto, un pomeriggio buco un pomeriggio di riposo con la mia collega e questa cosa mi rende veramente felice perché era tanto tempo che continuavo a lavorare senza sosta quindi ne avevo bisogno continuiamo il nostro giro in questo momento sono diretta verso un posto ben preciso praticamente stamattina essendomi alzata parecchio tardi poi una volta che ho fatto un workout è diventato molto tardi e ho fatto colazione alle 11 passate e ho mangiato anche più del solito per cui per il pranzo sto andando a prendere un gelato vediamo vediamo se questa gelateria riesco a trovarla perché con la precedente non sono mica riuscita a trovarla eccola allora ho preso un giga gelato con nocciola, pistacchio, cocco e lampone tutto questo per 9 franchi che saranno una roba che è come 11 euro wow i prezzi qua sono un po' esagerati ma vabbè mi sembra un programma molto molto bello posso dire che è squisito questo lampone sta di vero lampone ma cosa intendo per vero lampone mi ricorda le mermellate che faceva mia madre con il lampone dal nostro orto wow buonissimo ripetere non non se la Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Comunque è stata una giornata veramente perfetta, ho girato tutta la città vecchia e adesso sto facendo la passeggiatina, mi metterò a mangiare qualche tarallo seduta da qualche parte. E adesso volete vedere come facciamo venire qua tutti gli animali del lago, anzi tutti i volatili del lago. Voglio fare anche una considerazione, perché non riesco a tenermela per me stessa. La quantità di gente bella, uomini e donne, ragazzi e ragazze che vedo qua, è sorprendente. Non sai più dove girarti, sono tutti bellissimi, ma cos'è? E poi l'eleganza degli uomini, perché le ragazze siamo più abituati magari a vederle eleganti e comunque qua c'è una percentuale molto più alta di ragazze eleganti. Ma gli uomini, vogliamo parlarne, anche i più giovani sono vestiti veramente on point e questa cosa mi rende molto molto felice. Comunque siamo davanti all'opera. Ho già visto anche una signora vestita da Dio. Ora penso che continuerò il mio giro così. da sola con me stessa e vi invito a visitare Zurigo se non l'avete ancora fatto, perché merita davvero tantissimo. Poi incontrerò i miei colleghi e andremo insieme a cena, per cui magari vi faccio vedere la cenetta a più tardi. Questo è uno stato delle cose. Praticamente alle 23.45, mentre stavo inforcando una bella cucchiaiata di burro d'arachidi, è saltato l'allarme. Un allarme, adesso ve lo faccio sentire. Terrificante. A parte che le prime parole sono state dette in tedesco e io non capisco niente a parte Achtung, ovviamente ho capito che era l'allarme, però lì per lì dici che sta succedendo? Ma proprio sempre di notte poi queste cose devono succedere, giustamente. Vabbè, quindi ho preso le mie cose più preziose e sono scesa. Fortunatamente era un farso allarme e quindi adesso sono tornata in camera dopo una ventina di minuti, sono preparata la mia tisanina e adesso sapete come succederà? che io da qui alla fine del mio soggiorno non lascerò più le mie cose sul tavolo. Perché avrò paura che l'allarme scatti e che scatti anche la cosa che però non c'è, no? Non lo so, questo coso qua non lava via, non lava tutto. Però nel dubbio non metterò più le mie cose sul tavolo perché non vorrei mai che il mio bellissimo computer o macchina fotografica o documenti vengano lavati. Questo è l'evento più bello di questa serata. È stato emozionante, per non dire che mi sono proprio spaventata. Vabbè, oggi sono andata al supermercato e ho rimediato per l'errore che vi ho commesso. Ho comprato del cioccolato alle nocciole, un marchio svizzero, ragusa. Lo proveremo insieme. E poi nel cioccolato fondente al pistacchio. Questo è halba e di nuovo è un cioccolato svizzero. Perché se siamo qui vogliamo provare qualcosa di locale. E lì per lì stavo per azzannare il cioccolato, ma questo allarme mi ha destabilizzata. E quindi mi è saltata quell'attimo lì in cui volevo il cioccolato. E quindi probabilmente qualcuno dall'alto ha detto No, questo cioccolato è tomaccio. Anche perché ho mangiato la pesca con il burro ad arachidi. Quindi qualche cosa l'ho mangiato. Che ero un po' affamata. E quindi, vabbè, basta. Sono pronta per andare a dormire. Direi che questa giornata è stata bella piena. Quindi, ho bisogno di riposare. Ci vediamo domani. Nei prossimi giorni in realtà succederà come nelle altre trasferte. Quindi saranno giornate di lavoro. Quindi non potrò farvi vedere molto. Ah, intanto stasera ho mangiato in un posto tipo Stile American Diner. E ho mangiato un'insalata con... Oh, sorry! Con foglie di insalata, avocado, pomodori, scaglia di parmigiano. Sì, questo. E delle patatine. Questa è stata la mia cena. Infatti, la porzione era un po' piccola. Più che altro c'era poca insalata. Io sono abituata a mangiare di più. E quindi, tornata in appartamento, avevo ancora fame. E quindi ho mangiocchiato qualcosa. Basta. Adesso sono troppo stanca. Vado a dormire. Buonanotte. E' ormai il giorno del mio rientro. In questo momento mi trovo all'aeroporto di Zurigo. E il mio volo è in ritardo. Ed è anche il giorno del mio compleanno. E mi ero prenotata il parrucchiere. Perché volevo arrivare bella, profumata e pettinata alla festa che ho organizzato stasera. Ma va così. Allora, sono da Chalet Swiss e ho ordinato un piatto tipico. Visto che in questi giorni qua non ho ancora mangiato un piatto tipico. Ho preso dei rosti con raclette e pomodori. Non vedo l'ora. Il cibo è arrivato ed è very hot. Dopo tutto l'alcol... Thank you. Dopo tutto l'alcol di ieri sera questo, proprio quello che ci voleva. Uh, ieri sera... Sì, scusate. Non lo sapete. Allora, metterò qualche pezzettino di video qua. Ma praticamente ieri sera, alla fine dell'evento, i miei colleghi hanno procurato dello champagne. E abbiamo stappato due bottiglie di champagne. Tre. Ed è stato stupendo. L'hanno bevuto tutti insieme. E' chiacchierato e festeggiato ed è stato bellissimo. Solo che, non essendo molto abituata a bere tanto, allora, sono un po' provata. Però, sto bene nel senso che non sono proprio nauseata o altro che può provocare vino di altri tipi. La champagne, tanta roba. Adesso dovrei fare l'assaggio con voi, come sempre. Un po' bruciacchiato qua, eh. Buonissimo. Quanto amo io le patate, non le ama nessuno. Posso dirmi se il disfatto di questo piatto era squisito. E una cosa positiva in questo volo ritardato c'è stata. Altrimenti non l'avrei mangiato. Ora devo dirigermi verso il mio gate per tornare a casa. Quindi, colgo l'occasione di questo momento tranquillo per salutarvi. Ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Ma, fino ad allora, mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!